Ciao, 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 benvenuta. Come ti chiami? Silvia. Oddio Silvia, ma che voce hai? Alla voce del topo. Ma è la tua? Sì, veramente? Sì. Ah, è bizzarro. E da dove vieni? Vengo da Martina Franca che è un paese in provincia di Taranto. Ma non è possibile che questa sia la tua voce? E senti, cosa farai qui questa sera? Canto. Hai cento secondi. In bocca al lupo. Grazie. Oh, mamma mia. Grazie. 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 Ma prima ci prendevi in giro o veramente parli sempre così col falsetto? veramente. Qualcosa mi dice che la Lucy non le darà il golden buzz. Credo. E poi credo che tu sia molto emozionata, è vero? Sì. Perché sei fuorissima, sembri uscita da un film di Tim Burton con questa vocina. Sì. Quindi sei praticamente topogigio abitata dall'anima di Mario Biondi. Io non sono espertissima di canto, però io ti ho trovato molto brava. Poi sei veramente un personaggio, perché la tua fisicità è molto allegra, tonda, divertente. Sta vocina, piccola al vocione, sei impossessata da svariate anime, quindi mi piaci. A me, a me mi è piaciuta proprio un sacco questa performance. Io sono rimasto colpito, quindi due pollici in su. Io premio il twist, premio la sorpresa, premio la tua faccia, il tuo sorriso, la tua fossetta. Ti sei piaciuta tanto. Votiamo. Lucy. Per me sì. Frank. Per me è sì. Claudio. Per me è sì. Grazie. Silvieta. Eri troppo emozionata, tesoro. Grazie. Quindi te ne vai a casa con tre sì. Sei passata. Va bene, grande. Sei musica. Ciao Silvia, grazie. Ciao ragazzi. Vi è piaciuto questo video? Pensate di saper fare ancora di meglio o addirittura di meritarvi un golden buzzer? Allora dovete iscrivervi ai casting per la prossima edizione di Italia's Got Talent. Andate su questo sito oppure chiamate questo numero. Vi aspettiamo. Ciao.